Le categorie produttive vanno all'attacco del governo tecnico. Non ci sono provvedimenti incisivi per la ripartenza, in particolare per quanto riguarda ricerca, innovazione e infrastrutture. Non usa giri di parole il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi nel giudicare l'operato dell'esecutivo. Il tempo è poco, avverte Squinzi, portare a compimento i provvedimenti varati sarebbe già un discreto segnale. Il leader degli industriali rileva inoltre ci sono segnali positivi, altri meno. La riduzione dell'IRPEF, per esempio, è un fatto positivo ma va bene per le famiglie e non per le imprese. Quando siamo stati ricevuti dal governo, aggiunge, il provvedimento c'era stato presentato in modo diverso. Stiamo valutando il testo presentato in queste ore con le tabelle. Anche Confcommercio alza la voce contro Monti. Il presidente Carlo Sangalli afferma che l'aumento dell'IVA non è una scelta né utile alla crescita né all'equità, auspicando che tali scelte siano riviste. L'inasprimento dell'IVA ridotta, aggiunge Sangalli, colpirà molti prodotti alimentari e due veri volani del possibile ritorno alla crescita, turismo e ristrutturazioni edilizie già provati dalla lunga recessione. Il presidente dei commercianti si augura l'adozione di una compiuta agenda per la crescita e per una realistica e concreta riduzione della pressione fiscale su imprese e famiglie. Il rischio concreto, se non si correggeranno questi errori da matita blu, Chiosa Sangalli, è quello di avvitarci in una spirale pericolosissima tra disciplina fiscale e recessione. Dalle bocciature pesanti e autorevoli al governo centrale, alle vicende lombarde, con la partita sulla futura guida della regione, a seguito della caduta del governatore Formigoni, travolto dagli scandali. Il Consiglio regionale della Lombardia si scioglierà il 25 ottobre, che la legge elettorale sia stata fatta o meno, ha dichiarato lo stesso Celeste, secondo cui siamo in tempo utile per votare prima di Natale. A suo dire, quindi, le elezioni potrebbero essere il 16 o il 23 dicembre. Formigoni attacca poi di nuovo la Lega, respingendo l'ipotesi di una candidatura di Roberto Maroni, dicendo sono stato uno dei massimi propugnatori dell'alleanza con la Lega, ma il prossimo presidente non può essere un leghista, imputando al carroccio la caduta della sua giunta. Secca la replica del segretario federale. Credo che la Lombardia si sia autorottamata, dice, perché dopo aver scoperto che c'è un assessore arrestato per contiguità con l'andrangheta è difficile andare avanti. Noi ci stiamo a continuare questa esperienza fino alle elezioni, spiega Maroni. Noi abbiamo proposto di farle insieme alle politiche, perché farle a gennaio, marzo è un inutile spreco di denaro. Farle prima non ha molto senso. Aspettare due mesi e risparmiare 50 milioni di euro, tanto costano le elezioni, mi sembra preferibile. Il segretario della Lega Lombarda, Matteo Salvini, da parte sua sottolinea che per la Lega il lavoro non si interrompe, la data del voto non è un problema. La macchina del carroccio, infatti, è a pieno regime in vista della gazebata del 20-21 ottobre prossimi. Ai quasi 2.000 banchetti in tutta la Lombardia, la gente sarà chiamata ad esprimersi sui tre quesiti già previsti, referendum su Euro, Imu e il 75% delle tasse da trattenere sul territorio, ma anche sulla futura guida del Pirellone.